La decisione sulla sorte degli atleti russi alla vigilia dei giochi di Rio crea un vero e proprio conflitto tra il comitato olimpico internazionale che ha deciso di non applicare un bando generalizzato e l'agenzia internazionale antidoping che aveva richiesto la misura. Attila Agassi, giornalista sportivo ungherese, insiste sul danno recato all'immagine generale delle Olimpiadi private di grandi campioni. Il punto critico della questione, dice, è il gap che esiste tra la presunzione d'innocenza e la colpevolezza collettiva. Inoltre, se dei simboli dello sport come Jelena Isimbaeva, plurimedagliata e detentrice del record del mondo nel salto con l'asta, non possono partecipare alle Olimpiadi, i giochi perderanno prestigio ed interesse. Non si potrà più dire che le Olimpiadi sono la più importante competizione sportiva al mondo perché molti tra i migliori non ci saranno. Secondo l'agenzia internazionale antidoping, inoltre la decisione del CIO rischia di ridurre il livello di protezione degli atleti russi puliti. Ora la patata bollente è nelle mani delle federazioni sportive internazionali che stanno già decidendo caso per caso.